Ha scelto Rocca Costanza come luogo riaperto, simbolo di questo suo iniziale scorcio di mandato per tracciare un primo mini bilancio amministrativo alla presenza della sua squadra di governo fra Sessori, Aspes e Municipio di Monte Ciccardo. Andrea Biancani apre il mese di settembre analizzando i suoi primi 80 giorni da sindaco ed esaminando quanto lavoro sia già stato messo a terra dal rafforzamento di Pesaro Capitale della Cultura all'accelerata sulle manutenzioni dai cantieri in corso a quelli in programma. Abbiamo messo in piedi innanzitutto, abbiamo cercato di rafforzare Pesaro Capitale Italiano della Cultura andando ad implementare tutti quelli che sono gli spazi culturali, cioè mettere a disposizione tutti gli spazi culturali che abbiamo in città. L'altra cosa importante, stiamo per definire con la famiglia Vangi l'acquisizione di tutto il patrimonio che ci ha messo a disposizione entro qualche settimana andremo anche a definire e a dire dove verrà messo tutto questo patrimonio l'obiettivo è riuscire anche a renderlo visibile sin da subito dall'altra parte sono stati partiti tutti i cantieri legati agli spazi della cultura, legati agli spazi dello sport alle case popolari, investimenti importanti per la manutenzione ricordo che abbiamo messo oltre 1.200.000 euro per la manutenzione per quanto riguarda la manutenzione delle scuole, degli asili, degli impianti sportivi per la manutenzione del territorio, quindi quelli che sono i fossi. Abbiamo cercato di portare avanti, usciremo con un bando legato anche a un concorso di riposizione di idee per quanto riguarda il nuovo Viale Trieste, stiamo ragionando anche per implementare ulteriormente quelli che sono i mosaici presenti in città, stiamo rivedendo un po' quello che è il modello legato alle politiche educative per cercare di dare il più possibile risposta alle famiglie che ancora in particolar modo per i nidi sono in attesa con circa 140 famiglie in attesa. C'è poi un focus di priorità future che dal punto di vista turistico punta a rivedere la conformazione di Viale Trieste attraverso un prossimo concorso pubblico dal punto di vista culturale si scommette su un ambizioso trasferimento dei mosaici del Duomo nel Museo di Ocesano da quello della mobilità si pensa ad una rivoluzione sul piano della sosta con nuovi parcheggi in struttura. Abbiamo presentato oggi anche la volontà di realizzare dei nuovi parcheggi in struttura l'unico parcheggio in struttura oggi a Pesaro veramente realizzato è il parcheggio di Curvone, risale ormai molti anni fa abbiamo chiesto a Pesaro Parcheggi di fare uno studio sia sull'area in Viale Trieste, sull'area del San Decezio sull'area fuori della stazione del treno e anche davanti alla caserma perché l'obiettivo è togliere l'auto dalla strada, disincentivare l'uso dell'auto soprattutto per le persone che vivono vicino al centro quindi anche con una politica tariffaria nuova e soprattutto anche andando a rivedere, a rimodulare quello che è il sistema delle navette sia invernali che estive.